eccoci buonasera buonasera a tutti ci troviamo a combinazioni festival qui al museo di storia naturale di monte belluna e per presentare una delle serate che si sono tenute appunto in questa in questa cornice la serata era titolata arte e disobbedienza civile e si è cercato insieme ai nostri ospiti di comunicare ma anche di cercare di trovare un punto d'approdo di capire quanto l'attivismo da una parte e mondo museale poi possano trovare un punto d'incontro un modo di dialogo per comunicare non solo certamente le le istanze della crisi climatica e della crisi ecologica ma anche questioni più ampie come la crisi della società che stiamo vivendo i diritti delle minoranze e dell'uguaglianza e appunto abbiamo fatto con due esperti con ester goffi che viene dal mondo dell'arte ed è fa parte anche dell'ultima generazione e con una ricercatrice nicole mulhausen che lavora proprio su queste su queste tematiche nicole secondo te quali sono i punti fondamentali che sono usciti stasera anche quelli più positivi perché ce ne sono stati molti ma secondo me è emersa innanzitutto una possibilità di dialogo tra il mondo dell'attivismo il mondo istituzionale culturale perché in questa fase che è sicuramente critica per quanto riguarda il cambiamento climatico e tutta una serie di tematiche sociali è importante lavorare sulla costruzione di alleanze cercando di andare al di là delle polarizzazioni e quindi si è ragionato molto su questo poi anche sull'importanza di avere di adottare una visione più sistemica rispetto al cambiamento climatico e quindi una prospettiva di sviluppo sostenibile in cui il cambiamento climatico viene connesso a tutta una serie di altri argomenti dalle migrazioni alla globalizzazione ai modelli di sviluppo economici quindi la sostenibilità sociale il benessere delle popolazioni delle comunità e da qui anche penso la possibilità del mondo museale per quanto ci siano probabilmente ancora dei passi da fare di poter essere un alleato strategico in questo percorso ripensando i modi di narrare le collezioni e il patrimonio cercando di adottare i modi di lavoro più sostenibili cercando soprattutto di adottare delle modalità di lavoro più partecipate con le comunità di riferimento questo soprattutto anche per i musei territoriali e la cornice del museo di montebelluna in cui siamo è sicuramente un esempio propositivo in questa direzione grazie grazie mille ester io credo che insomma stasera sono usciti molti molti messaggi importanti uno un paio di quelli che forse sono più sono fondamentali da sottolineare e come poi in certi contesti i musei o comunque hai l'arte in generale come custodino di un tipo di anche di idea di tradizioni di storia e cultura possono essere un faro nella formazione poi anche della società civile no e in questo modo si può trovare un dialogo e credo che stasera abbiamo dimostrato no sì penso che appunto sto molto bello stasera incontrarsi in questo senso e sto veramente una casa di di confronto questo museo e ne sono molto felice penso appunto bisogna non essere più neutrali questo punto di vista quindi prendere le posizioni forti sulla crisi climatica e su ciò che fanno le persone che vorrebbero più attenzione su di essa e anche forse ripensare a cosa significa conservare il valore dell'arte odierno con questi problemi odierni che stiamo affrontando e cosa cosa ci porta di buono l'intoccabilità dell'arte anche il rapporto tra le persone e l'arte stessa e quali messaggi può ancora dare e di quale storia ci parla e a quale storia ci porterà questo grazie grazie mille io vi ringrazio vi ringrazio per i nostri ospiti per averci invitato qui e vi do appuntamento anche ai prossimi appuntamenti che sono estremamente ricchi e decisamente importanti grazie mille io vi ringrazio per i nostri ospiti per averci invitato qui e vi ringrazio per i nostri ospiti per averci